Gentili telespettatori buona giornata e così Giorgia Meloni riprende il discorso di De Luca De Luca che qualche giorno fa aveva parlato a sproposito di quel sacerdote di Caivano Don Patriciello dicendo il pippo baudo con la frangetta perché? Perché De Luca era invidioso che era stato invitato questo Don Patriciello a una conferenza di Fratelli d'Italia dove si parlava di premierato e soprattutto perché questo sacerdote che prima era di sinistra si sarebbe un po' convertito al centro-destra perché quando ha chiamato Meloni per chiederle di risolvere il problema di Caivano la Meloni in una settimana si è presentata lì mentre quando lui l'aveva chiesto alla regione De Luca e ai governi di sinistra prima nessuno gli aveva risposto se non sbaglio De Luca gli aveva risposto lo Stato a Caivano non c'è, stop ecco questa è la risposta dello Stato lo Stato con il suo massimo rappresentante nella regione De Luca risponde al parroco lo Stato non c'è a Caivano, stop con i rolli stop, stop proprio stop, punto esclamativo come dire finiscila lì, lo Stato non c'è, punto e basta naturalmente a De Luca ha dato estremamente fastidio che la Meloni abbia tentato e abbia risolto per il momento il problema di Caivano perché dico per il momento? perché ovviamente se non c'è lavoro a Caivano tu puoi controllare la situazione ma appena abbassi la guardia ritorna tutto come prima perché se non c'è lavoro, non c'è benessere le cose non possono cambiare veramente infatti Meloni poi dice De Luca faccia meno dirette su Facebook e risolva i problemi cerca di coprire le sue colpe vergogna di ridere Don Patriciello sono fiera dice la Meloni del lavoro che stiamo facendo a Caivano sono fiera di guidare uno Stato che il giorno dopo eventi molto brutti al Parco Verde non si sia girato dall'altra parte con costanza e serietà tutto il sistema Italia sta lavorando per trasformare un territorio noto per gli episodi di cronaca nera in un territorio che può rinascere lo stiamo facendo con molta serietà e con molta costanza era una scommessa sono contento che lo Stato cerchi di risolvere problemi perché di Caivano l'Italia è piena io ricordo che quando quando avevo giravo l'Italia come responsabile vendite avevo i rappresentanti tante volte ho girato proprio nelle periferie di Napoli perché si doveva andare da un cliente di qua da un cliente di là e ho visto delle zone veramente veramente degradate veramente veramente sembravano abbandonate in preda a gente che camminava cioè una situazione terrificante quindi di Caivano ce ne sono credo centinaia e centinaia in Italia tu puoi prendere Caivano come simbolo mandi lì, carabinieri, polizia controllate ogni angolo della città e così nulla si muove più apparentemente però per cambiare le centinaia di Caivano italiane per cambiare diciamo la periferia italiana per cambiare ci vuole il lavoro senza il lavoro non c'è futuro se una zona è immersa nella disoccupazione perché non ci sono fabbriche neanche a pagarle tu puoi mettere un poliziotto in ogni angolo ma se il lavoro non c'è poi se il lavoro arriva deve essere anche un lavoro pagato dignitosamente non può arrivare un lavoro da 350 euro al mese perché è così è così diciamo che oggi in molte parti del mondo sta sparendo quel lavoro da terzo mondo e in Italia invece sta arrivando ecco pertanto va bene la presenza dello Stato a Caivano ma se non c'è lavoro non vedo tutto questo futuro insomma immaginate che finisce il governo Meloni a Caivano piano piano da 100 carabinieri diventano 95 80 70 60 40 30 20 5 2 ogni tanto il problema è che andando via un giorno il governo Meloni che oggi ci sta attento a Caivano potrebbe tornare velocemente tutto come prima basta che tu togli le forze dell'ordine e domani e punto è a capo perché non c'è il lavoro la Meloni dice che la Camorra ha iniziato a fare le sue stese lo Stato non ha indietreggiato ed è anche merito di Don Maurizio Patriciello fu lui a chiamarmi a chiedermi di andare sul territorio ho trovato le parole del Presidente della Regione Campania vergognose nei confronti di Don Patriciello che è sotto scorta deriderlo e secondo me è un segnale spaventoso ma anche una mancanza di rispetto verso tutte le forze di polizia e il privato che stanno cercando di dare risposte che De Luca negli anni non ha voluto o saputo dare io penso che il Presidente della Regione Campania stia alzando l'asticella con dichiarazioni ad effetto per coprire le sue colpevolezze De Luca deride ogni giorno il suo lavoro ma penso che sia un lavoro straordinario se si fosse fatta qualche diretta Facebook in meno qualche soluzione al problema sarebbe potuta arrivare sul territorio le dirette Facebook il protagonismo voi sapete che vi racconto questa cosa avevo sentito che in politica in Parlamento c'è molta competizione invidia tra i parlamentari perché quello lo invitano a non so a di martedì quello lo invitano dalla Gruber perché cioè i parlamentari vorrebbero tutti essere invitati in televisione diventare dei volti noti e invece in televisione vedi quelle 5-10 persone massimo che ruotano i programmi alla fine i parlamentari sono 600 ma 550 sono dei perfetti sconosciuti provate a fare un elenco di quanti parlamentari conoscete vi accorgerete che arrivare a 50 è impossibile no? 50 sono tanti vuol dire che se va bene si conoscono il 10% dei parlamentari tutto il resto è una massa di persone che si fanno chiamare onorevoli ma sono dei perfetti sconosciuti voi se li vedete sull'autobus non sapete che sono degli onorevoli parlamentari delle eccellenze no? eccellenza no? come nei film degli anni 50-60 i parlamentari arrivavano con la macchina nera con le moto dei carabinieri che le escortavano tutti vestiti di nero col cappello e si facevano chiamare eccellenza no? è arrivata l'eccellenza cippalippa nei film vedete che negli anni 50-60 il politico era wow una cosa una cosa incredibile un'eccellenza paragonabile forse quasi al pontefice massimo non esageriamo grazie a tutti e arrivederci a presto